Da dove vieni? Sono nuovo di qui. Raccontami di Benedetta. Da quanto è che state insieme? Noi non stiamo insieme. Tu sei innamorato di lei? Sì. Non esiste una donna che non può essere conquistata. Io voglio che Benedetta si innamori di me. Impara a capire chi è dai suoi sguardi, da quello che le piace, dalle cose di cui si circonda. Ho capito, come con il poker. Mille. Che bisognerebbe guardare prima chi è davanti e poi le carte. La seduzione è un'arma sottile che parte da lontano. Vivi, Sasha. Vivi. Mi ricordo il modo in cui mi guardavi. Se non fosse l'occasione che aspettavo da una vita, io... Quanto ti serve? Carte! Mi devi dei soldi. O una partita. A che ti servono questi soldi? A che cazzo ti servono questi soldi? È io che ti credevo. È un bravo ragazzo. Io ho fatto esattamente quello che mi hai detto di fare tu. Nicole, è vero che non esiste una donna che non possa essere conquistata. Alla you have done to me What have I done to you What have I done to you?